Ha! Ha! Ma buon salve a un altro episodio di TikTok cringe fatti male E invece no! Dopo tre episodi e tre settimane passate a sopportare TikTok cringe di merda ho dovuto per forza fare un cambiamento perché altrimenti mi buttavo dal nono piano nonostante abito soltanto al terzo Perciò signori oggi ci prendiamo una pausa dal cringe e reagiamo probabilmente all'unica cosa su TikTok non cringe Mister Bruno Anch'io Oh my god what the... what am I... I'm 25 years old... Ok... oh canes oh that looks really good actually dang why is it cutting the dish no this was a curate this was a curate can you pass it once that I don't see the phone I just bought it for gentile cortesia ok 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 Grazie a tutti. Sensuale, buono comunque, porca troia, ha degli occhi enormi, cioè io sono arrivato a pensare che fossero falsi, sono veri, cioè lui ha degli occhi enormi e non gli batte neanche, com'è possibile? Grazie a tutti. Wow, so sad, no friends. That is, until Yubo came around. Yubo is an app that can connect you to friends you already have or even introduce you to new ones. Wow. With Yubo you can chat with your friends, live stream with them, and even play games with them. I'm gonna win, no you're not. Oh man, you killed me. Wow. So download Yubo today and make some friends. Wow. 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 Mamma, ascoltami, si volevo chiederti se per favore domani mi potresti comprare un reggiseno. Buongiorno. I just want to say that... Ho un'improvvisa voglia di cortecchino. È stato un episodio corto ma intenso perché è una cosa bella e le cose belle durano poco, mentre quelle brutte durano 12 minuti e mezzo di video. Ci vediamo la settimana prossima per un nuovo episodio.